Il 14 novembre 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha celebrato la giornata mondiale del diabete per cercare di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica su una morbosità che ormai non è più settoriale ma riguarda l'intera popolazione mondiale. Prevenire e gestire il diabete è possibile ma è necessario informare sempre più la socialità anche attraverso convegni come quello che il 25 gennaio scorso si è tenuto all'interno dell'hotel Parco dei Principi a Bari. Un vero e proprio apporto multidisciplinare alla patologia come spiegatoci dalla dottoressa Angela Garruba responsabile dell'evento. Il problema del diabete è un problema ormai a livello mondiale epidemico è un problema che sta sempre più coinvolgendo fasce di età anche molto giovanili e quindi abbiamo voluto porre l'attenzione su questa grave malattia sistemica degenerativa cronica proprio per far capire la importanza di tale patologia. Durante il corso degli interventi i relatori hanno dato massima importanza alla prevenzione come questa dunque sia il primo vantaggio nel bloccare l'insorgere della malattia. Io credo che sia il leitmotiv di quasi tutte le malattie non trasmissibili tra le quali il diabete, l'obesità e l'ipertensione. Le dico le più importanti perché sulla broncopatia cronica non ho esperienza un importante discorso. Certamente la prevenzione rappresenta la possibilità di non ammalarsi. Ora io dico che la prevenzione potrebbe scherzosamente togliere il lavoro nei medici ma io come medico ne sono ben felice di questo. Sarei ben felice. Non si parla più dunque di un singolo fattore di problematicità ma di una vera e propria patologia con tanti rami d'azione che colpiscono varie parti del corpo e dell'organismo. Io direi che si tratta proprio di un'epidemia di diabete ormai sempre più frequente quindi credo che l'argomento di oggi che tratta una delle complicanze più temibili per il diabete cioè il piede diabetico che spesso è disabilitante è fondamentale. Presente durante il corso della giornata il dottor Antonio Sanguedolce direttore generale dell'Asle di Bari. Le cure ci sono. A volte la cosa più importante è dare il riferimento. Le cure esistono, sono accessibili ma bisogna diffondere il più possibile dal punto di vista comunicativo qual è il canale di accesso, quali sono le procedure, dove sono i centri. Questo è quello su cui bisogna lavorare per estendere il più possibile la comunicazione e la possibilità di accedere in queste strutture.